Scatman's World però intanto prima voglio fare ancora un po' di centri ok incasso qua facciamo una stradina qua intanto no aspetta un attimo porra catrota vabbè e facciamo così facciamo i negoziati vicino al municipio chi se ne fotte ma chi se ne fotte ma chi se ne fotte ma perché non posso di qua ma no non ha proprio senso lo facciamo così aspettiamo vediamo un po' va bene che se ne stai ticano nel massimo chi se ne frega sinceramente l'importante 82.000 euro ottimo poi metto parchi e servizi salute 20.000 una clinica non prende di là però vabbè si prendono 9 casi di velocità con spene ok allora qua sempre controlliamo e controlla sempre per scrupolo energia roba e tutto bene il supporto sanitario è disponibile per i vicini ok qua fin da cosa c'è tutto il lavoro bene chiaramente però il supporto manca di qua però manca di qua chiaramente ora vediamo un attimo sti parchi andiamo a fare un parchetto piccino picciò natura no 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 facciamo così facciamo formale vediamo questo sì però che non ha troppo ora potrei farne uno non ne faccio uno qua no qua non ci sta è che non vado a prendere un cazzo cioè quello è il discorso ah dio mio sport campo da baseball campo da calcio però la devo fare cioè scusate quanto costa aspetta quanto costa però 10.000 perché siamo sempre là cioè alla fine non vado a guadagnare un cioè vabbè poco no aspettiamo per ste robe aspettiamo un attimo però devo tirare i cittadini benestanti che palle ne facciamo uno facciamo dai non capisco ma no non posso girarlo sto stronzo ecco l'ho fatto anche nel punto sbagliato vaffanculo oddio quanto l'ho pagato 2.000 non lo posso fare là non lo posso fare là quello succede? perché è in costruzione che vecchia sta succedendo un momento di panico ragazzi che succede? vabbè vabbè qua non capisco il perché sta ricostruendo tutto forse stanno minerando le case qua lo so che tanto d'acqua nessun problema va bene uh cazzo un incendio eh fioi vai perfetto buono buono molto bene ok no voglio vedere dai guarda quanto traffico che sparo fioi ma lo sistemano o no? oh figata no è una figata sto gioco ragazzi è una figata perfetto tutti felici adesso però porca puttanona cazzolina cazzoletta zoom papà dobbiamo metterne una anche qua per forza me ne sono accorto fioi l'intera città sta bruciando mi sta pure adesso lo sparo non per il caso porca trota e quindi andiamo a ricostruire qua buono molto bene io ho bisogno ancora di industria però vai e vai scusate scusate va bene se la casella di pompieri la è in mezzo alle fami se ne frega purtroppo non ho ancora un'esperienza tale anche per fare le cose fatte bene ordinate non è semplice le voliamo vai ciao bello qua allora allora ci sono i pompieri all'alarmamento incendio ok ok procede tutto bene ok qua non ho così niente qua non ho così problemi 49.000 euro abbiamo tantissimi tutto a fuoco va qua porca puttana meno male come si pompiere perché se no fiori veramente la vive in cuga grazie chiaramente se cioè consigli perché lo sapete il cumendone il cumendone non è molto esperto di questi giochetti qua soprattutto di sim city perché non ho mai giocato veramente non ho mai giocato quindi qua le case sono migliorate ecco io vendesi 4.000 che la sua stazione sono molto diminuito sinceramente come incremento demografico male molto male e ok passiamo alle ultime compratori con gli aiutamenti sufficienti non riesco ad attirare la gente con i schei parchi parchi o servizi insomma educazione scuola elementare ok 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 buono 3.121 perchè stanno calando? perchè sono calando? ragazzi questa cosa non riesco a capirla perchè calano perchè i cittadini sono qua in costruzione stanno migliorando quindi vanno via quelli poveri e quelli più ricchi non capisco sinceramente questa cosa proprio non la capisco ah 3.140 aumentano devo capire fiore devo capire giusto facciamo le cose necessarie scuola anche di qua ok buono cercasi il personale allora vai di strada ancora a a a a a Ora le facciamo un parquetto E qua facciamo le casette Ecco sono ancora calato ma perchè? No ragazzi questo è il 2817 perchè? Il 2600 Sto calando... Questo è per spiegarmela però Forse perchè arrivano quelli fighi? Non lo so, speriamo Speriamo Però mi sembra tanto strano Qua un calo Non capisco Addirittura 3000 eravamo 3100 qualcosa Posso capire il perchè? Ok discarica Ma che sono un po' preoccupato sinceramente perchè Qua la gente si sta... Ok Qua sta arrivando gente E' una residenza disponibile Boh non capisco ragazzi Non capisco questo crollo della gente Ah è veramente duro sto gioco ragazzi Veramente duro Porca puttana La velocità industriale è molto bassa Ok C'è bisogno di lavoratori Che cancari tamocari Però Se non arrivano Manca reddito medio C'è bisogno di lavoratori Dio mio Cosa posso fare? Cazzo Cazzo Aeree Stiamo un po' risalendo Stiamo un po' risalendo Adesso andiamo pianino E cerchiamo di risalire ragazzi Dai che il comandone Può riprendere New Venice Si deve riprendere ragazzi Sono un po' Si sono un po' sconcertato Allestamente perchè Si sono rifiuti l'apertura Affanculo Ti ho fatto una gara di scarica Porca Forze di polizia E anche un ospedale serve Un altro ospedale Pronto la La salute E' però la salute copre anche abbastanza bene Quanto costa? 20.000 euro Piuttosto andiamo a fare la pulizia Che non ho nessuno Ma eccolo qua Se non ho capito Ok Dove lo mettiamo? Mettiamo Ok 2008 Dai che stiamo risalendo dai Però non ho più schei eh Attenzione Non c'è più una lira Mamma mia che dura Un crimine commesso al giorno Eh là c'è criminalità Sicuri li ho un po' abbandonati a se stessi Ciponetti E torniamo ad andare giù Ma perché? Guarda che mi sto incazzando Mi sto incazzando Ragazzi Fate i bravi Lavoratori Lavoratori insufficienti Eh non stiamo andando tanto bene adesso eh però Proprio per niente E' proprio duro sto gioco Cazzo Sono io nabbo eh ragazzi Perché può essere anche quello Pochi posti per conoscere Certo Pochi posti per conoscere poi c'è E' certo Ai 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 dai, questa domanda industriale è alta. Nessun compratore. 2700 eh, niente, non riusciamo a dare su. Lavoratori insufficienti, lavoratori insufficienti, ma che caso goda a fare. Non sto bisogno di merce dalle fabbriche. Ok, ottimo, ragazzo, sono proprio curioso di vedere se è così. Ok. Allora, industria. Vai. Sono qua, non ho più spazio per un cazzo. Non ho più spazio. Oh, 3000, dai, dai, che stiamo risalendo. Dai, che forse stiamo, forse... Ok. Solo che qua non ho più spazio per niente. Qua come procede il tutto. 3161. Dai, ragazzi, dai, ragazzi, che devo andare su. Non ho più una lirà, non ho più una lirà, non ho più una lirà. Adesso vediamo. 3162. Oh, stiamo risalendo, dai. La gente di Roma è felice. Speriamo bene. Speriamo bene. Dai, che stiamo salendo, dai, cazzo. La lenta di salita nel comandone. Faccio fatica a commentare, ragazzi, perché sei con l'ansia che puoi perdere i cittadini, incendi, roba, veramente è un affanno, eh. 3459, stiamo salendo. Ma sopra un po' non tocchiamo un cazzo e vediamo cosa succede. Perché voglio salire, porca trota. Ho capito, dai piazzi al maniero, raggiù di 5.000, raggiù di 10.000, che sporco. Ma è una cosa un po' impossibile, però va bene. Maggio, la vediamo un po'. No, gennaio 9.000, siamo, eh, siamo, siamo là, comunque, dai. Siamo là. Ragazzi, ho bisogno di tantissimi consigli, però veramente, cioè, perché se no... sta campagna non ha tanta vita, eh, perché sono tante difficoltà all'inizio, porca puttana. Beh, la città a livello estetico fa un cagare, questa città. Qua cos'è che... nessun compratore. Questo che non capisco, nessun compratore. Turisti, eh, come cazzo fa sui turisti? Ho capito che si bisogna di turisti, però... Infatti, vediamo. Qui, visita a zero, però, via nessuno, in staccazzo di città, la città più brutta della storia. Ok, qui la metto sta aumentando. 3.459, siamo fermi. Ok. Aspetto, perché non so che cosa fare, ragazzi. Anzi, facciamo così. Tra poco chiudo il video, così mi date voi consigli. Insomma, cosa devo costruire, ragazzi? Questa è la domanda, perché, veramente, il mio cervello è abbastanza rimbambito, perché... Sinceramente non mi sono ben reso conto, cioè, ho fatto bene, ho fatto male, non sto capendo tantissimo, perché... Eh, non capisco, ho fatto le scuole, le robe, e i cittadini sono attivi e poi sono tornati. Non voglio dire che sono migliorati. Purtroppo questo gioco non è come tropico, è un po' meno intuitivo, quindi non puoi giocare così la cazzo. Quindi, ragazzi, consigli su cosa costruire, insomma, scuole, ospedali, cosa devo fare adesso? Buono, ragazzi, siamo a 37.000 euro, 3.000 a turno e 3.486 persone. Ragazzi, un saluto del sindaco Pippa. Ciao! Fiesi, mi sto rincogliorendo il cervello.